Ciao ragazzi e bentornati ad una nuova recensione di Tennis Taste. Oggi siamo in compagnia di una racchetta al solito di Kennex molto colorata, insomma questo 2022 per Kennex è iniziato all'insegna dei colori forti e il verde va ad identificare chiaramente la linea Q Plus Tour, ovvero la racchetta più tecnica, più classica, la Boxed di Kennex, che nasce in realtà dai vecchi mold di Black Case, quindi una racchetta che conosciamo benissimo, infatti più che l'attuale Black Case io avrei chiamato Black Case questa qui, vabbè, che è scelta di Kennex, lasciamo correre, ma Q Plus Tour, per chi lo volesse sapere, è in realtà la racchetta che deriva direttamente, diciamo, da Black Case, dalle vere Black Case, e infatti il mold è esattamente quello. Nel caso di specie abbiamo in mano Q Plus Tour Pro da 315 grammi, ed è una racchetta molto interessante da parte di Kennex, che è indubbiamente la racchetta più sensibile della gamma Kennex. Andiamo a scoprire subito i numeri di questa racchetta. Abbiamo un piatto corde da 98 pollici, uno schema corde 16-19, un profilo bellissimo da 20 mm, tutto boxed su tutto quanto il telaio, un bilanciamento a 31 cm e uno swing weight di 327 punti. Quindi sicuramente una racchetta solida, sicuramente una racchetta che in mano un po' si fa sentire, ma non è in assoluto una racchetta pesante, perché siamo comunque al di sotto dei 330 punti e si avvicina ai canoni, diciamo, delle attuali 305 grammi agonistiche, ma chiaramente con un peso più alto e un bilanciamento più basso, quindi una dinamica un po' diversa. Prima di andare a scoprire però come si comporta in campo questa Q Plus Tour Pro 315 grammi, ti ricordo di iscriverti al canale, di attivare la campanella delle notifiche e di lasciare un bel like a questo video, così mi aiuterai a far crescere la mia community, perché l'algoritmo di YouTube funziona così, più commenti, più like, più condivisioni e i contenuti girano maggiormente. E ti ringrazio se mi vorrai dare il tuo supporto. Come va in campo questa Q Plus Tour Pro da 315 grammi? Devo dire che è una racchetta molto interessante, perché è una delle racchette che in Kennex conserva maggiormente l'attitudine alla classicità, ecco, perché è sicuramente non la più flessibile, perché Black Case Pro, anzi, Black Case Pro, qui il link al video che ho realizzato qualche giorno fa, è sicuramente più flessibile, ma questa con i suoi 60 punti e il suo profilo boxe dà un sapore un po' più classico, più deciso, anche un po' più forte, secondo il mio punto di vista. E quindi partiamo subito dicendo che il feeling di questa racchetta è molto buono e nonostante il kinetic, nonostante tutto quello che si voglia, è una racchetta che è flessibile, connessa alla palla, ti fa sentire il colpo, ha un feedback sincero, concreto, quindi dal punto di vista della connessione con il colpo, qui siamo al top dal punto di vista di Kennex, quindi chi cerca la sensibilità, questa è la racchetta, diciamo, da guardare in casa Kennex, linea Q Plus Tour. Questa nello specifico, chiaramente con più massa rispetto alla versione 300 grammi, è indubbiamente un po' più connessa, ma anche la 300, diciamo, ha il suo perché, perché il telaio è lo stesso, cambiano un po' le masse, ma c'è comunque senso anche nella 300, che si avvicina un po' più ai canoni, diciamo, delle 305-32, qui invece siamo proprio a livelli classici dal punto di vista di peso e bilanciamento. Questi 315 grammi in mano comunque non si sentono tantissimo, è una racchetta solida sicuramente, ma non è un mattone. Infatti la maneggevolezza di questo telaio è molto buona, il bilanciamento a 31 tiene bene a bada la sua massa e quindi è una racchetta che si swinga discretamente bene. Certo, non è una racchetta da neofita, perché comunque è un telaio tecnico, è un telaio boxed che, dal punto di vista della spinta, ha bisogno che il braccio faccia davvero tanto. La palla, infatti, è facilitata nell'uscita, ma per la concretezza sul colpo, per la pesantezza, per la velocità di uscita, eccetera, qui c'è bisogno comunque che il braccio prenda il sopravvento sul telaio e lo porti a spasso in maniera allegra. Non bisogna forzarla, perché è una racchetta che sulla forzatura non rende benissimo, ma bisogna farla scorrere. Quindi con velocità di braccio, con decisione dell'azione del braccio, con un'idea precisa, diciamo, di quello che il braccio deve fare e quindi cercando di impattare sempre più avanti e cercando di trovare un timing corretto per far andare via la palla. Ora, per fare ciò chiaramente non è richiesto uno sforzo elevatissimo, perché il telaio scorre bene in aria, comunque la testa dell'archetta è educata, quindi segue bene quello che fa il braccio, quindi segue bene il manico, non scappa via, ma comunque l'azione è faticosa in assoluto, perché comunque il telaio ti richiede di dover fare qualcosa in più con il braccio per essere efficace. Di per sé non è pesante, ma per farla rendere come deve, comunque vuole un determinato ritmo. Un ritmo che comunque è abbastanza alto, Qplus Tour Pro 315 è comunque una racchetta abbastanza demanding da questo punto di vista, ma in generale non è una racchetta che ti frena la palla. Questa è una bella dote per una classica di questa categoria, cioè dei 315 grammi con il bilanciamento arretrato. Il segreto è un po' nel Kinetic che negli ultimi anni comunque è stato sfruttato anche per dare una buona spinta al medio regime e per di più qui abbiamo uno schema corde 16 su 19 che non è chiuso. È uno schema, ve lo faccio vedere, abbastanza aperto, diciamo che questi quadratoni che vediamo formati dalle corde non sono sicuramente piccoli, quindi un po' lontani dai canoni delle vecchie Prestige e più vicini diciamo ai canoni dei pattern attuali, per questo motivo è una racchetta che comunque il topspin lo sa dare e ti lascia dare diciamo una buona dose di topspin. Infatti diciamo nella costruzione del punto il topspin è davvero molto buono, la palla comunque sale, la palla comunque si carica discretamente di spin, non è una palla particolarmente pesante in assoluto ma è comunque una palla abbastanza complessa. Per la pesantezza è il braccio che ha bisogno quindi di fare qualcosa in più, ma Qplus Tour Pro è comunque uno strumento con il quale esprimere tennis. Non vuole essere un aiuto, ecco come magari lo può essere un Qplus 5 Pro che ha un po' più di castagna, ecco, a regime intermedio. Qui invece è una racchetta che è un po' as it is, cioè quello che le dai ti dà un piccolo aiuto ma non più di tanto, quindi qui la responsabilità della spinta, dello spin, dell'effettività dei colpi è tutta sul braccio. Però in generale non è una racchetta particolarmente pesante per cui si fa condurre a ritmi interessanti senza particolare sforzo, ecco. Non è una racchetta dalla quale pretendere una potenza elevata da martello di Thor, però è una racchetta che comunque la sua potenza la riesce ad esprimere un po' a tutti i livelli, sempre ricordandoci che appunto dipende da quello che le dai. Le dai, le ti dà, altrimenti si spegne. Un cenno fondamentale va fatto per quanto riguarda la tolleranza, perché con questo pattern aperto, con questo piatto che è discretamente largo, diciamo, è un po' più raccolto verso l'alto, ha una buona tolleranza dal punto di vista laterale ed è una racchetta anche abbastanza stabile, non è sicuramente una racchetta ballerina e si fa strapazzare anche un po', per quanto non ami lo strappo di spin, l'abbiamo detto, ma comunque è una racchetta che comunque mostra la sua stabilità un po' in generale. Quindi è anche una buona tolleranza, che si va a riflettere anche su quello che secondo me è il miglior colpo di questa racchetta che è il back, perché è una racchetta flessibile, è burrosa quando vai ad impattare il back e te la lavori tutto il tempo che puoi, quindi bello così va, il back va, ecco, scusate questa onomatopea, ma ci stava. Quindi il back di questa Qplus Tour Pro a me piace, perché è un back convincente, è un back che si lavora, si lavora un po' in tutte le salse, è anche un discreto sidespin, la puoi sporcare, la puoi giocare pulita, è una racchetta molto immediata e molto completa nel suo bagaglio tecnico anche sul back. Andando verso la rete trovi poi un telaio che comunque si comporta piuttosto bene, perché è piuttosto sensibile, tocca bene la palla, è burroso all'impatto, ti dà quell'attimo in più per sentire il colpo che stai facendo e quindi il tocco è salvo, è un bel tocco sinceramente. La volée di piatto alle volte scappa un po' perché comunque il pattern è aperto, lavora decisamente meglio per quanto riguarda il la volée con il taglio. In generale non è un'archetta che ha poco controllo, anzi dal fondo dimostra un gran controllo e a rete è altrettanto, tuttavia sul colpo piatto abbiamo detto tende ad avere un po' di gittata lunga, non è poco controllo ma è una gittata più lunga diciamo del normale perché affonda di più, è comunque una racchetta morbida che ha un impatto più prolungato rispetto al normale e quindi va rispettata un po' per questo motivo. Un po' si risolve alzando la tensione delle corde ma secondo me è una scelta abbastanza residuale perché si va a togliere un po' di potenza gratuita che il telaio ha e soprattutto a limitare il buono spin che questa racchetta offre. Quando vai al servizio trovi una buona prima palla piatta che comunque viaggia bene, scorre facilmente, ha una buona precisione, esce con decisione, ti richiede un ritmo un po' alto al servizio per portarla laddove riesce a darti vera potenza però comunque c'è precisione e c'è concretezza sulla prima palla. Bello invece lo slice perché lo slice comunque riesce a girare piuttosto bene, lo riesce a modulare sia in attacco che in difesa, è uno slice che comunque gratifica, ha una curva anche abbastanza accentuata e quindi si fa davvero apprezzare lo slice di questa Qplus Tour Pro. Ed infine abbiamo il kick. Devo dire non male il kick con questa Qplus Tour Pro perché è un kick che comunque salta discretamente, per quanto non sia una racchetta che ami il top spin strappato riesce a dare una buona modulabilità dello spin anche al servizio e soprattutto sul kick, dove la palla gira abbastanza bene, ha un rimbalzo piuttosto energico e talvolta si prende anche un taglio un po' più laterale per sporcare la traiettoria e quindi cercando un kick magari ad uscire. Non male da dare il kick con questa racchetta, è richiesto un ritmo alto, è richiesto di forzare il telaio per far venire fuori un kick monster kick, però comunque in generale è un kick abbastanza modulabile e si può sfruttare in tanti modi con una richiesta di fisico e tecnica che sicuramente non è proprio bassa. In definitiva, come va questa Qplus? Tour Pro 315 grammi, è una racchetta un po' complessa da gestire per probabilmente tanti appassionati, ma è comunque una racchetta che concede in un frame praticamente ultraclassico, boxed, 20 mm, con bilanciamento basso e peso alto e un'inerzia comunque abbastanza sostenuta, una completezza di gioco, una completezza tecnica che riesce a dare tanto, una completezza che riesce a far sentire la palla, che riesce a dare controllo, che riesce a dare una buona spinta a regime medio-alto ed anche ad alto regime, perché no? Certo ci sono racchette ad alto regime, riescono a sfruttare meglio le proprie proporzioni, ma qui a regime medio e regime alto, diciamo, il braccio non soffre troppo. C'è questo kinetic che dà, insieme ad una rigidità davvero bassa, una sensazione comunque burrosa di impatto, il kinetic, vediamo, qui si sente davvero poco. Questa è la racchetta dove il kinetic si sente meno in assoluto, però ancora un pochettino c'è. In gioco non si sente, dà fermo e ha un po' effetto maracas, ma bisogna passarci sopra, perché in gioco davvero non si sente. Bene ragazzi, io con questa Q Plus Tour Pro ho finito, vi ricordo che per chi volesse acquistarla è disponibile su Tennis Point, mio sponsor, un codice sconto del 5% che potete richiedermi tramite messaggio privato su Instagram, e per questo vi invito a seguirmi anche lì. E soprattutto vi ricordo di iscrivervi al canale, di attivare la campanella delle notifiche che trovate qui in basso, e di lasciare un bel like a questo video se vi è piaciuto. In questo modo mi aiuterete a far crescere la mia community e a far sì che questi contenuti girino il più possibile. L'algoritmo di YouTube funziona così, per cui datemi una mano, sfondate questi pulsanti, segui, like, commenti, quello che volete, e facciamo crescere questa community. Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video.